Marco Ceccato, 37 anni, di Sababia! Ceccato, ti è toccata la mozzichetta un po' muscia, comunque va bene, dai, o almeno lo stesso. Eh, perché lui è un classico, è una persona seria, sposata, lui, allora dove stai? Ah, ecco qua, Marco Di Re, fa il vigile del fuoco, sposato e ha due femmine, due bambine, due bambine non so quanti anni hanno, comunque, due ragazze. Andiamo avanti con il 23, il 23esimo, che è Michael Pezzoli, 20 anni di Latina. Lui, lui, è il più giovane degli uomini, ed ha la passione per il calcio, ama uscire con gli amici. Tutti amiamo uscire con gli amici, no? Ah, ne manca uno, eh, ce n'è tanto, il 24esimo, sempre della categoria 30, Alfredo Rango. 40 anni di Latina, prego, imprenditore nel settore dei pneumatici, ha un figlio Gabriele e ha l'obbby della pesca in apnea, in apnea. Inoltre gioca a tennis e scia, proprio come a me, guarda. Guarda, anche i bambini, eccoli qui, facciamo un grande applauso, guarda che belli sono. Bellissimi, spettacolari. I bambini sono i più belli, diciamo. Sono i più belli. Eccoli qua, guarda, guarda. Che spettacolo, ragazzi, che fa la natura, eh. Poi quando sono grandi, magari uno, eh, ci ripensa un po', però sono sti belli. Allora, adesso i bambini sono usciti, ma... Dovrebbe uscire anche Marika Ginetti, vestita da sposa, accompagnata da Alfredo Rango. Alfredo, è pronta? Eccola qui, bellissima da sposa, un abito molto particolare. Rango, eccolo qui, Rango e due paggetti. Oh, un grazie a Marisa Pirotti, che ha realizzato gli abiti, anche quelli da sposa, eh. Anche quelli da sposa. Bravissimi, belli, bravi, bravi ragazzi. Veramente bravi, avete spiato veramente bene. Allora, li possiamo far accompagnare, no? Insomma, li facciamo uscire. Potete uscire piano piano. Facciamo un applauso. ...maschietti, che sono tre. Tre, li avete già visti prima? Comunque, gli facciamo una bella accoglienza, un bel applauso da parte delle donne. No? Loro non dareggiano, eh. Ricordatevelo, non dareggiano. Prenderanno anche loro un premio di consolazione. Verranno premiati comunque, ma non dareggiano nel concorso bellezza New Look 2015. E parliamo, parliamo del, del ragazzo Marco Cercato. Marco Cercato. Poi, poi abbiamo Michael Pezzoni. E infine, Alfredo Ranco. Allora, loro non vanno in finale, però dobbiamo premiarli comunque, no? C'è il vincitore, no? C'è il vincitore, no? Allora, aspetta che ti mando la rullata, eh. Eh, dov'è? Eccola qua. Chi vince, chi vince? Alfredo Ranco. Alfredo Ranco. Ok, ok. Ah, sono premiati tutti e tre? Tutti e tre. Un premio di consolazione. Grazie, bravi, bravi.